è che sapeva far gol, probabilmente il paragone se l'ha fatto vuol dire che lui ci crede, per me Castrovilli è un giocatore che anche lui dopo due anni di gavetta e serve andare in giro a giocare, è tornato a Firenze con grande forza, l'ha sempre schierato e lui sta ripagando con la sua capacità di cambiare passo, di saltare l'uomo, di fare le due fasi e questo ci fa ben pensare perché abbiamo davanti una mezzala moderna.